È isolata rispetto al resto della stazione e si presta benissimo a essere praticamente il soggiorno non solo dei senza tetto ma degli spacciatori e di chi usa droga. Dopo il maxi blitz al parco del Colle del Pionta lo spaccio si sarebbe spostato proprio qui nella zona della terminal della stazione di Arezzo e lungo viale Piero della Francesca a lanciare questo nuovo allarme alcuni cittadini e residenti. Ci troviamo a pochi passi dal parco del Colle del Pionta. In questa zona che costeggia la ferrovia sono stati segnalati movimenti sospetti di giorno e soprattutto di notte. C'è richiesta e quindi di conseguenza loro in qualche modo si mettono nella condizione di poter andare a vendere e spacciare da altre parti dove magari meno visibilità perché magari lascia la confusione delle persone prendono l'autobus, quindi magari nella confusione si vede meno. Si tratta di un'area isolata, lontana da occhi indiscreti, ideale quindi per spacciatori e consumatori. C'è questa sorta di parcheggio e basta per cui ci girano di tutto e non vivendoci c'è un passaggio, è di passaggio e come tale non è controllato. Da qui l'appellano non abbassare la guardia sullo spaccio in città dopo l'arrietata che aveva portato all'arresto di una trentina di pusher. Devo dire che qualcosa è stato fatto, obiettivamente è stato fatto, non si può sempre negare che non sia stato fatto nulla, però ancora ce ne vorrebbe, ce ne vorrebbe.